Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo L'Ufficio di Maria. Spero dopo la condividerete a tutti e farete iscrivere tutti i vostri amici al mio canale YouTube Savinotesse attivando la campanellina delle notifiche. Considerazioni sulla poesia. La madre di Cristiani, la Madonna, ha offerto tanto amore, ci ha rissi i suoi figli, ci protegge, ci dà eterna attenzione. La madre di Cristiani è degna di onore amorevole. Quante volte vediamo persone che vanno a chiedere le grazie in chiesa, si inginocchiano per pregare col crocifisso in mano e con il rosario per chiedere a Maria benedizione? Quante persone ottengono molto in termini di miracoli e prodigi? Quindi la mamma di tutti è Maria che protegge i suoi figli e ascolta la preghiera lodevole dei miseri e dei bisognosi e l'attua e ci dona la sua protezione sempre. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo L'Ufficio di Maria. La madre dei Cristiani ha offerto tanto amore, ci ha resi i suoi figli sotto la sua eterna protezione. La madre dei Cristiani è degna di onore amorevole, è un aiuto dai ricchi risvolti, è del tono santo e cordiale. L'Ufficio di Maria è un aiuto ai figli, ricco di amore e vita, per renderli forti e santi. La madre dei Cristiani è ricca di amore, è degli eterni splendori, è degna di lode e venerazione. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci.